Come è la giornata internazionale per la lotta alla corruzione? La materia della corruzione, non dell'anticorruzione, di nuovo agli onori della cronaca. Diciamo subito che, ahimè, il tema della corruzione è sempre stato di casa in Italia, purtroppo anche nel recente passato, ma anche nel passato più datato. Noi siamo soliti ricondurre al periodo cosiddetto di mani pulite, il periodo di massima corruzione. Certo, se pensiamo alle conseguenze che ci sono state in quel periodo, addirittura si parla di seconda repubblica da quel momento, c'è stato proprio la decapitazione di tutta la classe politica. E sicuramente quello che noi ricordiamo nell'immaginario collettivo come il periodo di più alta corruzione, a quel periodo è corrisposto sicuramente un periodo forse di abbassamento del livello della corruzione. Questo in virtù del fatto che i fenomeni corruttivi hanno una particolare caratteristica, ossia hanno una proporzionalità inversa rispetto alla loro emersione. Nel senso sono dei fenomeni striscianti, sono differenti da altri fenomeni dedituosi come possono essere gli omicidi, i furti. In una città dove ci sono tanti omicidi sicuramente quella è una città dove ci sono e dove c'è maggiore insicurezza. In una città dove non si parla di corruzione o quantomeno non emerge questo fenomeno, questo non vuol dire che non ci sia, anzi potrebbe essere proprio indice che sotto banco si muovono trame corruttive, come abbiamo visto anche uscire in questi giorni. Comunque quello di Mani Pulite l'ho voluto ricordare per fare un'analisi di contesto perché diciamo che l'Italia sicuramente ha perso una grande occasione in quel periodo per iniziare a mettere mano a una strategia anticorruttiva. Ricordavo il direttore della legge 241 del 1990 che sicuramente è stata l'unica, l'unico passo fatto in questa direzione, cioè dare trasparenza ai procedimenti amministrativi, dare accesso agli atti. Sicuramente fu una rivoluzione all'epoca però molto poco, ci si fermò lì. L'Italia come paese, come classe politica, in fine conti pensiamo c'era una nuova classe politica che avrebbe potuto fare proprio il cavallo di battaglia su questa materia. Invece da come narcotizzata è stato proprio addormentato questo problema e in effetti di misure anticorruzione non se ne è parlato più per anni. Non solo non se ne è parlato più per anni ma addirittura quando se ne è parlato si è stati quasi costretti con la pistola alla tempia perché sono stati gli organismi internazionali a imporre una serie di misure in materia di anticorruzione. Qua ho in cada alcune delle convenzioni, abbiamo avuto la convenzione OX del 1997, abbiamo avuto la convenzione del Consiglio Europa del 1999, la costituzione del cosiddetto greco che sarebbe il gruppo di paesi uniti contro la corruzione. è singolare il fatto che l'Italia abbia sottoscritto la convenzione del Consiglio Europa solamente nel 2007, ma addirittura ci sono state convenzioni ONU del 2000 sulla comunità organizzata e del 2003 proprio sull'anticorruzione che prevedevano, che l'Italia ha sottoscritto quasi immediatamente, che prevedevano una serie di iniziative che dovessero essere poste in essere dai paesi aderenti, ma che invece hanno fatto slittare in maniera assolutamente inerte tutto quello che queste convenzioni prevedevano a livello di attuazione pratica nel nostro sistema ordinamentale non si sono viste per molti anni. L'unica iniziativa era stata quella della costituzione dell'alto commissario anticorruzione, ma anche qui, piccola parentesi simpatica, peraltro voi sapete che io vengo da lì, vengo da questa esperienza dell'alto commissario anticorruzione, l'alto commissario fu soppresso, penso uno dei pochissimi casi nell'ordinamento italiano, fu soppresso con decreto legge, lo stesso decreto legge che istituiva Ispra, tra l'altro, c'è questo parallelismo tra Ispra e alto commissario anticorruzione, ma la cosa simpatica, appunto, dicevo, che fu soppresso perché? Perché si potesse sopprimere, perché ancora non era stata ratificata la convenzione ONU, perché in realtà quell'autorità, quell'alto commissario anticorruzione, altro non era che la risposta dell'Italia, anticipata rispetto alla ratifica, anticipata della convenzione, di quello che prevedeva la convenzione ONU. Tant'è vero che questa convenzione ONU, poi, è stata ratificata nel 2009, e ieri proprio mi sono stampato un articolo di questa convenzione che è molto indicativo, perché l'articolo 6 dice, e designa, allora, voi sapete, quando si ratificano le convenzioni, i testi di legge sono molto scarni, di fatto si dice, è ratificata la convenzione, appunto, e basta. In questo caso c'è qualche articolo in più, perché si trattava di andare a modificare il codice penale, e poi c'è questo articolo che era relativo all'autorità, perché doveva essere designata un'autorità anticorruzione. Bene, questo articolo dice, in titolo articolo 6, autorità nazionale anticorruzione, è designato quale autorità nazionale, senso l'articolo 6 della convenzione, eccetera, eccetera, il soggetto al quale sono state trasferite le funzioni dell'alto commissario per la pronunzione del contesto della corruzione. Cioè, ancora nel 2009, non si sapeva neanche chi potesse essere il soggetto, perché era stato soppresso l'alto commissario, quindi, anziché dire, l'autorità è riconducibile, come oggi per esempio possiamo dire, nell'ANAC, no, è solo dire, è riconducibile nel soggetto che prenderà il posto del commissario anticorruzione. Quindi, questo per dire quanta strada ancora c'era da fare. E con la legge 190 del 2012, in effetti, si completa finalmente questo faticoso percorso di ratifiche, quindi di introduzione nell'ordinamento italiano di queste convenzioni. Quindi noi, infatti, nel primo articolo della 190 vediamo il riferimento alla, cos'è, alla convenzione ONU, questa del 2003, e anche alla convenzione di Strasburgo, questa del Consiglio d'Europa, del 1999. Quindi una ratifica che avviene in un caso dopo 15 anni, in un altro caso dopo 9 anni. Però anche qui siamo all'inizio, nel senso sicuramente è un momento importante, perché da questo momento viene definita l'autorità, che poi ovviamente ha fatto già tempo a cambiare, perché all'epoca venne definita l'autorità nella CIVIT, oggi sappiamo confluito nell'ANAC, ma soprattutto si è iniziato a dignare un sistema, un sistema anticorruzione. Molto complesso, oggi per non spaventare noi cercheremo di dare alcuni tratti salienti, ma vi assicuro che se dovessimo prendere in considerazione tutti i soggetti che sono coinvolti nell'anticorruzione, viene da dire che questo Paese ormai lavora solamente per l'anticorruzione, perché a tutti i livelli c'è il coinvolgimento di ministeri, di ministri, comitati, presidenza del Consiglio, tantissimi sono i soggetti che intervengono in questa materia dell'anticorruzione. Quindi dicevo, venne definito questo sistema. Con la circolare numero 1 del gennaio 2013 si è iniziata a scendere un po' nel particolare, si è iniziata a dare delle linee operative, delle indicazioni, e soprattutto si è stabilito che dovessero essere individuate delle linee guida dal comitato dei ministri a cui facevo riferimento, dovesse essere adottato un piano nazionale anticorruzione, dovesse essere nominati in ogni amministrazione dei responsabili della pronunzione e della corruzione e veniva a questo punto stabiliti quali dovessero essere i criteri per questa nomina, nonché le strutture che dovevano far capo a questi responsabili. Strutture che possono essere di maggiore o minore complessità, possono fino addirittura arrivare a costituire dei veri e propri uffici dirigenziali. Diciamo che l'indicazione che viene data è che il responsabile anticorruzione sia un dirigente di prima fascia, possibilmente che appartenga all'amministrazione non come il sottoscritto, anche se poi vengono previste eccezioni in relazione proprio al curriculum personale e ahimè il mio curriculum mi ha un po' costretto a prendere questo incarico che devo dire la verità mi sarei risparmiato volentieri. Comunque, ora scherzavate, intanto ecco volevo dire per quanto riguarda invece la struttura del nostro istituto, io anzi colgo l'occasione anche io per ringraziare la dottoressa Franchi, la signora De Filippis, anche la dottoressa La Porta che ho visto che per un periodo appunto ha fatto parte della struttura e quindi ha dato una mano in una fase sicuramente di avvio delle iniziative. Questo, continuando appunto l'escurso di questi strumenti normativi, si è arrivati quindi a settembre del 2013, quando è stato emanato questo piano nazionale anticorruzione, approvato poi dalla Civit, che prevedeva tra le varie iniziative quello che ogni amministrazione dovesse avere un piano triennale per la prevenzione della corruzione da approvare entro il 31 gennaio di ogni anno. Questo l'avevo messo perché era giusto per fare vedere, a proposito di questo escursus che c'è stato normativo, come poi questo ha inciso sull'andamento di questo indice CP che sarebbe l'andamento di percezione della corruzione fatto in tutti i paesi aderenti al Agricorpus e Transparency International che fa queste classifiche. Vediamo che oggi l'Italia ha un poco onorevole 69esimo posto, più o meno. Vediamo come dal 2012 ci sia una ripresa, perché poi questi indici della percezione spesso e volentieri sono basati anche su degli aspetti formali, cioè per esempio c'è un'autorità nel paese? Sì, no. C'è una legge? Sì, no. C'è un sistema? Sì, no. Sono tantissimi elementi che contribuiscono ovviamente all'individuazione poi di questa classifica e vediamo come c'è stato un crollo dal 2007 in poi e là c'è stata l'abolizione dell'Alto Commissario Anticorruzione, c'è stato il fatto della crisi del governo Prodi che poi portò di nuovo Berlusconi al governo e siccome Berlusconi aveva dei conflitti di interessi, questo ovviamente è un qualcosa che andava valutato nell'ambito di questi indici, comunque fatto sta che noi oggi vediamo questa situazione dove ecco se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno ecco c'è una leggera ripresa, però ciò non toglie che noi siamo l'ultimo paese europeo in questa relatore, proprio siamo stati superati anche da Grecia e Bulgaria da poco. Quindi insomma la situazione, tra l'altro bisogna dire che questi indici non sono indici così a sé stanti, perché questi sono strettamente connessi anche ad aspetti economici, perché gli investitori quando devono andare in un paese vanno anche a vedere questo indice, vanno anche a capire quanto c'è di corruzione in quel paese, perché ovviamente la corruzione ha un costo, quindi l'investitore sa che deve pagare qualcosa, ora se in termini economici o in altri termini comunque questo è il fatto. Allora diciamo quindi la legge 190 2012 introduce un sistema, come dicevamo prima, un sistema che sicuramente è organico ed è basato su due livelli. Un primo livello, come dicevo, è quello del piano nazionale, il PNA che è stato adottato da Civite, adesso ANAC. Un secondo livello invece che veniva, deve essere adottato, deve essere definito da parte di ogni singola amministrazione. neanche noi abbiamo il nostro bel piano approvato appunto come è previsto dal 31 gennaio 2014. Cercherò di andare anche un pochettino più veloce perché sennò ho paura che sforiamo i tempi. La cosa importante di questi piani è che questi piani rispondono a un criterio ciclico, cioè il piano non è un qualcosa di stabile e rigido, anzi il piano deve essere annualmente aggiornato e devono essere individuate quali sono le aree a maggior rischio, devono essere verificati se le misure poste in essere sono adeguate e quindi devono essere di volta in volta modificate le misure al fine di avere interventi sempre più incisivi in termini di anticorruzione. I destinatari di questo adempimento sono tutte le pubbliche amministrazioni, bene dirlo, anche quelle come forze di polizia, carriere diplomatiche, insomma che generalmente rimangono un pochettino fuori da questo tipo di iniziative. Allora, il discorso poi della definizione della corruzione è importante, perché spesso e volentieri, ecco forse è poco felice anche la denominazione del responsabile per la prevenzione della corruzione, perché in effetti la corruzione va intesa in senso ampio, non deve riferirsi solamente all'atto corruttivo, ma al buon andamento dell'amministrazione. Quindi diciamo che l'accezione, quando c'era l'alto commissario anche la denominazione era diversa, perché là si parla dell'alti commissario per la lotta alla corruzione, contro la corruzione, non mi ricordo, e comunque contro i reati contro la pubblica amministrazione, quindi era già più ampio come definizione. Ma qui vedremo poi nei contenuti, in effetti, non ci si rivolge solamente all'esigenza di prevenire fenomeni corruttivi, ma prevenire proprio i malfunzionamenti dell'amministrazione, perché il malfunzionamento dell'amministrazione ha già in sé i germi perché possa attecchire un sistema di corruzione. Questi sono gli obiettivi principali che il Piano Nazionale Anticorruzione va a individuare, ossia ridurre le opportunità che si manifestino i casi di corruzione, come dicevamo, aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione e soprattutto, io l'ho messo in grassetto perché secondo me è quello più importante, creare un contesto spavorevole alla corruzione. Allora capite che qui stiamo passando da un ambito propriamente normativo o delittuoso, nel senso, riferendo in questo senso a reati specifici come la corruzione, a quello di creare un contesto che sicuramente mette le sue radici più in un ambito culturale, etico del pubblico dipendente o comunque a chi viene a contatto con questo mondo. Quindi il contesto sfavorevole come si crea? Si crea sicuramente con una cultura. Giornate come queste sono finalizzate proprio a far crescere una consapevolezza che determinati atti, pur non essendo corruttivi per così dire, però minano, minano proprio la stabilità, minano il buon andamento del sistema e quindi su quelli bisogna agire. Io ho un osservatorio privilegiato sicuramente come capo del personale di questo istituto e mi rendo conto come spesso e volentieri non si comprenda che determinate attività, pur non essendo, ripeto, di carattere corruttivo, qua non pensiamo a bustarelli, a soldi e a mano in tasca, però di fatto minano il buon andamento dell'amministrazione. Si perde di vista a volte anche l'illiceità di certi comportamenti. Io spesso lo dico, se dovessi fare una sintesi della mia esperienza dell'anticorruzione è quella di dire che purtroppo il pubblico dipendente ha perso spesso e volentieri la consapevolezza che alcune cose non si devono fare, non si devono fare perché sono illecite, tra l'altro. Quindi questa veramente la... quando mi trovavo a fare indagini in anticorruzione, stavo in ambito quindi repressivo ovviamente, c'era il discorso di non vedere neanche le carte messe a posto, tra virgolette ovviamente, questo voleva dire perché c'era una sensazione di impunità, una sensazione che tanto lo fanno tutti, che ovviamente faceva sì che poi era semplice paradossalmente anche andare a scovare situazioni di illicità, perché ormai la cultura purtroppo molto italiana delle tanto lo fanno tutti, porta a perdere di consapevolezza il fatto che quell'atto che si va a fare è un atto che comunque è illecito. Io qua per fortuna noi casi non ne abbiamo di questo genere, non l'abbiamo mai riscontrato, però pensate per esempio il fatto che il collega veggi per un altro, no? Questo qua, vabbè, ma quello non poteva, c'era la bambina doveva andare a prendere... sì, no, questo qua è rubare, in quel caso allo Stato, è un fatto produttivo ed è entrato nella cultura, è un po' come il parcheggio in doppia fine, insomma, sono tutti quei comportamenti che alla fine, siccome lo fanno tutti, fanno sì che le persone abbiano perso di vista l'illicità del comportamento. Il piano nazionale poi individua una serie di misure che devono essere attuate, devono essere individuate dall'ambito della singola amministrazione. Io ho segnato in rosso, vedete sono tante queste misure. Ho segnato in rosso quelle, a mio avviso, più importanti, ma per il semplice motivo che hanno questa caratteristica che dicevo prima di pervasività, nel senso che sono delle misure sistemiche, non sono puntuali. La rotazione del personale, sì d'accordo, è una misura importante, però è una misura puntuale, poi non è detto che sempre si possa fare, ci sono posti dove si può rotare, posti dove non si può rotare, ci sono amministrazioni dove si può rotare, amministrazioni magari piccole, e questa qui tutto sommato è anche un'amministrazione piccola, che non ha detto che abbia delle professionalità sempre tra loro fungibili. Quindi sono iniziative puntuali. Cosa diverso è, per esempio, il codice di comportamento, di cui parleremo diffusamente più avanti, o gli adempimenti in materia di trasparenza, o l'adozione appunto del piano triennale, che di per sé, per sua natura, ha una caratteristica programmatica e pervasiva. A questo aggiungiamo anche la formazione, in materia etica, interità, altre tematiche, ecco, vedete, questa parola di etica ritorna anche nel piano nazionale, perché ci si è reso conto, finalmente, a livello normativo, che il vero salto di qualità noi lo dobbiamo fare nei comportamenti. Io ogni tanto, io sono figlio di un dipendente pubblico, e io non posso fare a meno di ricordare qual era l'atmosfera che respiravo quelle pochissime volte che capitava che andavo da mio padre in ufficio. Era un'atmosfera di austerità, era un'atmosfera di serietà. Ecco, sarebbe bello recuperare quell'atmosfera in una pubblica amministrazione. Allora, per quanto riguarda appunto le misure che devono essere adottate, fermo restando quell'elenco che appunto è già previsto nel piano nazionale anticorruzione, poi possiamo individuare delle misure che devono, da definire obbligatorie, perché appunto sono quelle previste dal piano, a quelle che invece l'amministrazione ritiene di dotarsi, oppure di cui si è già dotata. Qua vediamo, si fa riferimento alle ispezioni, ai controlli di varia natura che possono essere fatti in uffici. Ho messo tra parentesi ufficio ispettivo, perché tra l'altro, quando ancora non c'era l'obbligo, ancora il piano nazionale, il piano triennale della corruzione non era un obbligo per le amministrazioni, però già c'era il piano della trasparenza. Insieme ai colleghi con cui ci occupavamo all'epoca di quell'argomento, avevamo immaginato di introdurre all'interno dell'ISPRA un ufficio ispettivo, perché comunque già avvertivamo l'esigenza di dare un segnale, anche istituzionale, del fatto che sentivamo l'esigenza che qualcuno controllasse cosa accadeva. Ma non è, ripeto, guardate il controllo, tant'è vero che poi non lo facevamo perché temevamo che questo potesse essere visto come una sorta di amministrazione che vuole reprimere. No, voleva invece essere un segnale di cultura diversa, cioè dire attenzione perché l'amministrazione vuole essere consapevole che le cose vanno bene all'interno dell'istituto e quindi vorrebbe creare un ufficio, lo dobbiamo chiamare ispettivo, se voi andate a vedere nel piano della trasparenza trovate proprio definito questo ufficio, perché l'avevamo già individuato, bisogna dire con un po' di anticipo anche rispetto a quello che poi il piano nazionale ci andava a chiedere. Insomma, un piccolo orgoglio per aver visto un pochettino avanti rispetto anche al legislatore. I soggetti delle attuatori, diciamo, del piano triennale per la prevenzione della corruzione sono praticamente tutto il personale, a vari livelli, sicuramente il primo coinvolto è il sottoscritto come responsabile della prevenzione della corruzione. Ci sono poi i referenti, alcuni li vedo anche in sala, abbiamo distinto tra referenti territoriali, abbiamo chiamati i referenti per materia, che sono diciamo delle figure di supporto per il responsabile e che devo dire in realtà hanno avuto un grande ruolo in questi mesi per un lavoro che poi vi dirò che abbiamo svolto. I dirigenti ovviamente, perché anche loro sono i primi destinatari, come dirò poi nel codice del comportamento, io ritengo che i primi a essere, a dovere fare il salto etico sono i dirigenti, perché come in tutte le cose l'esempio che parte dall'altro è quello più importante e poi tutto il personale, perché tutto il personale deve essere coinvolto anche nel segnalare eventuali situazioni di malfunzionamento che dovesse incontrare. Abbiamo detto appunto che il piano ha una natura programmatica, quindi passiamo avanti. Il contenuto diciamo tipico, più caratterizzante del piano triennale è quello relativo alle aree di rischio. Qua parliamo sì di rischio di corruzione, però torniamo a quello che dicevamo prima nell'accezione generale, il rischio di corruzione non è solamente quello che ti fa individuare la possibilità che ci sia, per dire, una percezione di denario o di utilità. Il rischio di corruzione è, sia ogni qual volta ci possa essere un malfunzionamento appunto del pubblico operare, per così dire. L'individuazione dell'area di rischio poi è finalizzato a stabilire delle priorità di trattazione. Il rischio, vabbè qua ci sono le definizioni di rischio, di evento, poi casomai queste cose qui le mettiamo pure online, quindi le potete anche leggere, ma sono tra l'altro tratte dal piano nazionale, quindi sono tutti documenti pubblici. Una giornata come questa ha l'intenzione un pochettino di divulgare notizie che sono da tutti comunque acquisibili online, perché sono tutte quanti delle fonti pubblicate anche sul nostro sito. Va detto che le aree di rischio possono variare, anche se poi ci sono alcune aree di rischio che il piano nazionale anticorruzione ha individuato come obbligatori, perché vuol dire che queste caratterizzano tutte le amministrazioni. E queste aree di rischio, le prime due di queste aree di rischio sono quella in materia di reclutamento del personale e quella in materia di svolgimento di gare, cui faceva riferimento prima il direttore. Poi ci sono altre due aree che sono quelle che portano meno dei benefici diretti a terzi, però insomma noi di queste ne abbiamo meno, poi ne parleremo quando parliamo delle aree di rischio. Eccole qua, queste qua vi dicevo, acquisizione e professione personale, affidamento dei lavori e servizi e poi ci sono adozioni provenienti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, privi di effetto economico diretto e immediato oppure con effetto economico diretto e immediato. Ecco, tutte queste aree devono essere oggetto ovviamente di attenzione da parte delle singole pubbliche amministrazioni, anche se noi come istituto abbiamo ritenuto nella fase di prima applicazione, cioè in occasione dell'approvazione del primo piano triennale, di porre l'attenzione sulle prime due aree e darci una tempistica, cosa che tra l'altro era consentito, una tempistica diversa per le altre, anche perché in questo istituto non era presente una mappa dei processi dell'istituto, quindi noi ci siamo posti come obiettivo per quest'anno proprio quello di individuare tutti i processi che caratterizzano l'attività dell'istituto. Questi processi tra l'altro sono stati poi raccolti in una mappa che ha individuato 11 aree differenti, dove sicuramente 4 sono quelle che poi abbiamo detto, ma altre sono tipicamente riconducibili all'attività di questo istituto. Quindi per esempio, così giusto per ricordarne qualcuna, abbiamo inserito un'area specifica, aspettate che qua, anzi ve le faccio proprio vedere, ora questo non mi ricordo se l'abbiamo messo online, però per fare capire anche il tipo di lavoro che è stato fatto, ecco queste sono tutte, queste sono tutte le, i processi dell'istituto, come vedete nella prima c'è l'acquisizione e progressione del personale, poi abbiamo la gestione del personale, sistemi di gestione, l'affidamento dei lavori, servizi e manutenzione, gestione dei beni, amministrazione e bilancio, l'area giuridico legale, provvedimenti ampliativi della sfida giuridica, questa è un'area che era appunto obbligatoria, prevista dal piano nazionale, questi con effetto immediato diretto, l'area ampliamento delle conoscenze e delle competenze, questa è proprio caratterizzante del nostro istituto e infine la diffusione e la divulgazione delle conoscenze, vedete qua sulla destra sono riportati poi i singoli processi e i sottoprocessi, quindi per dire nei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto, c'è sicuramente l'attività ispettiva presso le aziende e quindi come sottoprocessi abbiamo visto la programmazione annuale dell'attività, l'individuazione di ispettore ambientale, predisposizione delle ispezioni e così via. Questa è una fotografia, una mappa dei processi che ha la pretesa, speriamo insomma di aver colto almeno al 90%, di andare a fotografare tutti quelli che sono i processi dell'istituto e quindi una volta fatto questo di poter procedere con la valutazione del rischio e la sua pesatura. Infatti ecco, vedete la gestione del rischio poi cosa prevede? Che una volta effettuata la mappatura dei processi dobbiamo procedere alla valutazione e quindi al trattamento del rischio. La valutazione del rischio è un processo abbastanza complesso che prevede appunto l'identificazione, l'analisi e la ponderazione. La valutazione, questa valutazione del rischio, cerco di correre perché vedo che siamo un pochettino, questa valutazione del rischio viene effettuata su ciascun processo sulla base di una tabella di pesatura che viene già individuata dal piano nazionale anticorruzione. Questa tabella di pesatura va a misurare la probabilità che un evento accada e l'impatto di questo evento. Secondo questa, non so se si vede, forse è troppo piccola, come si è fatto di questa cosa? Strumenti, strumenti, ecco qua. Vedete questa qua è una tabella che misura, nella parte sinistra ci sono gli indici di valutazione della probabilità, nella parte destra è l'indice di valutazione dell'impatto. Quindi su ogni singolo processo si devono fare tutta una serie di domande, per esempio il singolo processo, quel processo è discrezionale? Allora no è del tutto vincolato, è parzialmente vincolato e vengono dati dei punteggi a secondo di ogni valutazione. È ovvio che in questo caso, per esempio, discrezionalità, no è del tutto vincolato, fa segnare 1 come punteggio, è altamente discrezionale, fa segnare 5, è ovvio che lì c'è un'alta probabilità di malfunzionamento, nel senso o più che di malfunzionamento, un funzionamento che potrebbe non essere quello che è previsto dalla norma, sicuramente la norma prevede che ognuno di questi processi venga svolto nell'interesse dell'amministrazione. Ecco, potrebbero esserci altri interessi. Rapidamente sulla rilevanza esterna, la complessità del processo, ovviamente se un processo è complesso, più è complesso, più c'è uno sminuzzamento della responsabilità e quindi è più facile che venga fatto oggetto di malfunzionamento perché poi non è riconducibile la responsabilità. Mi fa pensare un po', prima parlavamo delle leggi fatte subito dopo Mani Pulite, una legge importante che non abbiamo citato ma è quella che ha previsto la nomina diretta del sindaco, quindi c'è che c'entra. Vi ricordate che all'epoca c'erano i pentapartiti e il pentapartito era il massimo dell'irresponsabilità perché ogni amministrazione poi potrebbe sempre dire ma non è che l'abbiamo fatto, noi l'abbiamo fatto perché c'era quel partito che spingeva questa parte o quell'altro, non c'era mai una riconducibilità diretta delle responsabilità e quella fu una riforma molto importante perché poi bisogna dire che specie nella prima stagione ha funzionato l'elezione diretta del sindaco, singolare che se andate a vedere subito dopo l'introduzione della norma che provvede alla elezione diretta del sindaco e quindi molti poteri accentrati in una persona, vennero quasi tutti rieletti questi sindaci. Ora non è che l'Italia aveva partorito una generazione di sindaci eccezionali, però probabilmente la riconducibilità a una sola persona dell'azione faceva sì che questa persona fosse sicuramente maggiormente responsabilizzata e lavorasse anche bene, anche con meno vincoli probabilmente. Poi insomma la cronaca di questi giorni ci ha fatto vedere che queste sono, vanno sempre migliorate insomma queste normative e soprattutto come dicevo bisogna lavorare molto sulla sull'etica delle persone. Comunque ecco questo è il meccanismo con cui vengono pesati i singoli processi e una volta quindi arrivata a questa appaesatura si procede a una ponderazione dei rischi, ossia la ponderazione dei rischi non è nient'altro che il raffronto, perché ovviamente l'insieme di tutti quei voti poi dà una media che voi per esempio potreste già trovare nel piano approvato a gennaio, tutto questo è già stato fatto per quei due processi che dicevo reclutamento e gare appalti. Quindi diciamo questa, da lì vedete poi quali sono i processi più a rischio, viene fatta quindi una ponderazione, un raffronto tra i diversi rischi e quindi una volta individuate l'area di maggior rischio vengono poste in essere le misure che sono ritenute più idonee a contrastare e quindi a minimizzare il rischio. Questa, sono stato brevissimo, no questa, aspettate non mi voglio, no stavo vedendo dei tempi ho guardato l'orologio sempre per vedere se arriviamo, siccome questa era l'ultima slide perché cosa abbiamo fatto e cosa dobbiamo fare, era quella che avevo messo come chiusura. Come vi dicevo queste sono praticamente tutte le cose che sono state fatte quest'anno, sicuramente la mappatura dei processi è stata la parte più complicata e anzi io devo ringraziare tutti voi, ecco tornando al discorso chi era coinvolto, perché sicuramente i referenti, i dirigenti, ma io so che tutto il personale dei singoli servizi ha operato per individuare i processi e vi assicuro che non è stata una cosa facile. La mappatura dei processi, guardate, è un qualcosa che ci deve dare anche un certo orgoglio nel essere riuscito a farla, perché so per certo amministrazioni che sicuramente l'avranno fatta meglio di noi, ma ci hanno messo dieci anni a farla. In occasione di una di queste giornate di formazione c'era proprio uno dei formatori che veniva sempre dalla Camera di Commercio, come si chiamava, non mi ricordo, e lì mi disse noi ci abbiamo messo dieci anni a fare la mappatura dei processi. Ripeto, sicuramente sarà molto migliore della nostra, però insomma noi una mappa che inizia a avere una sua consistenza, un suo contenuto ce l'abbiamo e l'abbiamo fatta in pochi mesi grazie veramente al lavoro di tutti voi. Ora qui ci resta da fare la parte finale, cioè l'implementazione della banca dati e il popolamento del catalogo dei processi e soprattutto completare la gestione dei rischi, perché adesso dobbiamo pesare tutti quei processi, vanno pesati secondo quella griglia, secondo la possibilità che ci sia un rischio corruttivo e quindi dovranno essere individuati gli eventuali rischi e dopodiché appunto si andrà alla ponderazione, si farà un bel registro dei rischi e questo ci consentirà poi anche di fare un aggiornamento del piano triennale che ahimè dovremo fare entro anche in questo caso entro il prossimo gennaio. Quindi queste sono le cose, poi ci sono i vari link dove ovviamente potete trovare tutto questo materiale e per adesso per il momento mi fermerei qui dando la parola adesso al, chi era la dottoressa Siglari mi sembra la seconda, la dottoressa Siglari che appunto ricollegandosi a questo, a quanto detto, vi parla proprio di una di quelle aree obbligatorie che erano previste dal piano e che è rivolta appunto all'acquisizione di beni e servizi da parte dell'amministrazione.